Non è banale dire che i bambini sono il futuro del mondo. Attualmente sono vittime di abusi, soprattutto nelle mura domestiche, di violenza e loro non hanno modo di parlare e di esprimere il loro dolore. Noi come azienda a carattere nazionale che si occupa di prodotti per la cura della casa e della persona abbiamo voluto lanciare questo messaggio di denuncia, dire guardate, riconoscete i segni, fate in modo che questi bambini non soffrano e non abbiano più questi volti segnati dal dolore e dalla sofferenza. E' un modo il nostro un po' non solo per rafforzare l'identità del brand, per far capire che siamo vicini all'attualità, ma anche per creare un rapporto di fiducia con il nostro consumatore che deve riconoscersi, sì per la qualità dei nostri prodotti, anche però per un'integrità, per come si pone nei confronti delle persone.